Buonasera a tutti i telespettatori di R24 e Teleromagna da Andrea Raggini. La giornata di oggi ha visto maggiore nuvolosità rispetto a quella di ieri, ma pochissime precipitazioni relegate all'Appennino. La situazione non cambierà nella giornata di domani, che inizierà con qualche schiarita sulle pianure centro-occidentale, ma nuvolosità diffusa sul restante territorio regionale, dove nel corso del pomeriggio e sera è previsto un peggioramento che dovrebbe coinvolgere solamente la bassa Romagna e il suo relativo Appennino, con deboli precipitazioni che risulteranno nevose intorno ai 1000-1200 metri di quota. Le temperature minime saranno comprese tra meno 1 e 4 gradi, i valori massimi generalmente compresi tra 7 e 10 gradi, temperature che cominceranno a diminuire dal pomeriggio e sera in Appennino e diminuiranno soprattutto nella giornata di domenica, che dopo un inizio piuttosto grigio vedrà il ritorno del sole su buona parte della nostra regione. La ventilazione sarà per lo più debole e il rinforzo tra la sera e la notte a partire da Ferrarese e Costa Romagnola. Per ora è tutto, buona serata da Andrea Raggini.